frederick mariat la botte sono greco di nascita e i miei genitori erano poveri abitanti di smirne sono figlio unico e ho imparato fin dall'infanzia il lavoro di mio padre quello di fabbricante di botti quando raggiunsi l'età di vent'anni avevo già seppellito entrambi i miei genitori e dovevo cavarmela da solo per un po di tempo rimasi al servizio di un commerciante divino ebreo e continuai in quel lavoro per altri tre anni dopo la morte di mio padre fin quando non accadde un avvenimento che mi condusse dapprima alla ricchezza e poi all'attuale stato di degradazione in quel periodo grazie alla mia diligenza e al mio impegno costante mi ero guadagnato la stima del mio datore di lavoro che mi aveva elevato al grado di soprintendente anche se dovevo ancora sorvegliare e qualche volta collaborare alla costruzione delle botti avevo l'incarico di travasare e di tagliare i vini per prepararli alla vendita c'era tra di noi uno schiavo etiope che lavorava alle mie dipendenze un uomo molto robusto dalle spalle squadrate e dallo sguardo malvagio con cui il mio padrone non riusciva a trattare non gli importava nulla delle bastonature di qualunque altro castigo a cui fosse sottoposto e dopo la punizione diventava ancora più astioso e attaccabriga di prima il furore che traspariva dai suoi occhi ogni volta che scoprivo qualche negligenza o malefatta da parte sua era così violento che mi aspettavo che un giorno o l'altro mi avrebbe ucciso ripetutamente chiesi al mio padrone di liberarsi di lui ma poiché quel etiope era un uomo molto forte ed era capace di spostare da solo senza alcun aiuto un barile di vino l'avarizia dell'ebreo non gli consentiva di accondiscendere alle mie ripetute richieste una mattina entrai nel negozio e trovai l'etiope profondamente addormentato di fianco a una botte che gli avevo già ordinato di preparare e che ormai doveva essere pronta per paura di doverlo punire io stesso informai il padrone della sua mancanza l'ebreo adirato per la scarsa dirigenza dimostrata dallo schiavo lo colpì sulla testa con un bastone l'etiope balzò in piedi furibondo ma vedendo il padrone con il bastone in mano si limitò a brontolare lamentandosi e mormorando non mi farò più bastonare da lui quindi ricominciò il suo lavoro non appena il padrone si allontanò dal negozio l'etiope riversò la sua rabbia su di me per aver informato l'ebreo e afferrato il bastone mi si lanciò contro cercando di colpirmi mi riparai dietro il barile ma lui mi seguì e mentre prendevo un'ascia per difendermi inciampò contro uno sgabello che si era trovato fra i piedi si lanciò quindi con nuovo impeto per proseguire l'attacco ma io lo colpì con l'ascia che gli penetrò nel cranio uccidendolo all'istante ero molto preoccupato per quello che era accaduto anche se avevo agito per l'agittima difesa ero consapevole che il mio padrone non sarebbe stato molto soddisfatto per la perdita di uno schiavo robusto e dato che non c'erano stati testimoni non mi sarebbe stato facile difendermi davanti al cadì dopo aver riflettuto decisi che avrei fatto credere al padrone che l'etiope era fuggito dato che aveva affermato non gli permetterò più di bastonarmi e nel frattempo avrei cercato di nascondere il cadavere ma era molto difficile riuscire a farlo perché non avrei mai potuto portarlo fuori dal negozio senza essere visto da qualcuno dopo aver meditato decisi di metterlo nel barile e di richiuderlo ci volle tutta la mia forza per sollevare il corpo ma alla fine ci riuscii dopo aver apposto i piombi al barile inchiodai i cerchi e lo feci rotolare fino al magazzino dove avrei dovuto riempirlo di vino da vendere nell'annata seguente appena si trovò nella posizione giusta feci zampillare il vino dalla vasca e dopo aver riempito il barile e aver sistemato il tappo ebbi la sensazione di essermi tolto dal cuore un peso enorme dato che non era possibile che il cadavere venisse scoperto in un breve lasso di tempo avevo appena portato a termine il mio oneroso incarico e mi ero seduto un attimo a riposare su una panca quando il mio padrone entrò nel negozio e chiese dello schiavo gli risposi che era uscito dal negozio giurando che non avrebbe lavorato mai più in quel posto per paura di perderlo per sempre l'ebreo informò in tutta fretta le autorità in modo che riuscissero a trovarlo dopo un po' di tempo non avendo rinvenuto nessuna traccia del presunto fuggitivo pensarono che si fosse annegato a seguito di un attacco di depressione e non si preoccuparono più di lui nel frattempo io continuavo a prestare la mia opera al negozio come sempre e dato che dovevo seguire tutte le fasi della lavorazione non avevo il minimo dubbio che prima o poi sarei riuscito a liberarmi tranquillamente di quel fastidioso fardello all'inizio della primavera successiva stavo travasando il vino da una botte all'altra secondo le nostre abitudini quando arrivò il capo dei giannizzeri era un grande bevitore di vino e uno dei nostri migliori clienti i suoi domestici erano tutti molto conosciuti ma preferiva non mandarli a comprare il vino e così veniva lui stesso al magazzino dove sceglieva un barile lo portava via su una portantina sorretta da otto schiavi robusti con le tendine abbassate come se volesse nascondere un nuovo acquisto appena concluso per il suo harem il mio padrone gli fece vedere i barili di vino preparati per la vendita di quell'anno che erano sistemati in due file io notai che quello che conteneva l'etiope non era fra i primi dopo aver fatto un assaggio da uno dei due barili senza dimostrarsi soddisfatto il principe fece un'osservazione amico Isacco i tuoi dipendenti vogliono sempre vendere prima le merce più scadente se ci riescono ho l'impressione che il vino più buono si trovi nei barili più nascosti e non in questi che mi hai offerto chiedi al tuo servo greco di farmi assaggiare il vino di quel barile mentre parlava indicò col dito proprio quello nel quale avevo nascosto lo schiavo negro ero sicuro che non appena avesse assaggiato quel vino l'avrebbe sputato per il disgusto e perciò non esitai a stappare il barile e a riempire un bicchiere che gli porsi immediatamente lo assaporò sollevò il bicchiere alla luce lo assaporò di nuovo umettandosi le labbra poi rivolto al mio padrone manifestò il suo gradimento brutto imbroglione ebreo volevi rifilarmi della merce scadente e tenere nel tuo magazzino del vino che potrebbe essere bevuto dalle uri del paradiso l'ebreo si rivolse a me per avere conferma che i barili di vino erano tutti della stessa qualità e io assentii deciso allora assaggialo rispose il principe e poi bevi il primo che mi avevi consigliato il mio padrone obbedì e restò chiaramente stupito è sicuramente più corposo affermò e non riesco a capire come ciò sia potuto accadere assaggialo anche tu ceris avvicinai il bicchiere alla bocca ma per nulla al mondo avrai bevuto quel vino mi limitai a dar ragione al mio padrone con la massima convinzione di cui ero capace sicuramente questo vino ha più corpo degli altri il principe era tanto soddisfatto di quel vino che assaggiò quello di altri due barili della seconda fila sperando di trovarne altri della stessa qualità deciso a farne una buona provvista ma non avendone gustato nessun altro della stessa qualità ordinò agli schiavi di portare fuori il barile che conteneva il corpo dello schiavo lo fece caricare sulla portantina e trasportare a casa sua fermati un attimo greco bugiardo ordinò il pascià al quale il greco stava raccontando la sua passata avventura vuoi davvero farmi credere che quel vino fosse migliore di quello degli altri barili perché dovrei mentirvi sublime altezza sono solo un semplice verme che voi potete schiacciare come vi ho già detto non l'ho assaggiato vostra altezza ma dopo la partenza del principe il mio padrone espresse la sua sorpresa per l'ottima qualità di quel vino che almeno così disse era superiore a qualunque altro avesse mai assaggiato e manifestò il suo rincrescimento per il fatto che il principe avesse portato via proprio quel barile così che non gli era più possibile cercare di stabilire le ragioni di quell'eccellente risultato ma un giorno proprio in questo paese raccontai quegli avvenimenti a un tedesco che non si dimostrò affatto sorpreso per la migliore qualità di quel vino era stato commerciante di vini in Inghilterra e mi spiegò che in quel paese usavano buttare nei barili grossi pezzi di carne per renderlo più forte e che alcuni vini particolari diventavano eccezionalmente corposi con questo procedimento Allà sia benedetto Dio è grande esclamò il pascià deve essere proprio così ho sentito dire che gli inglesi apprezzano molto la carne adesso continua con la tua storia vostra altezza non può immaginare la paura che provai quando gli schiavi del principe portarono via il barile mi sentì un uomo perduto e decisi di andarmene immediatamente da Smirne calcolai il tempo che il principe avebbe impiegato a bere il vino e presi le mie decisioni di conseguenza spiegai al padrone che avevo intenzione di andarmene poiché un mio parente di Zante mi aveva offerto di mettermi in affari con lui e il mio padrone che contava molto sulla mia collaborazione mi pregò di rimanere ma io non accettai alla fine per convincermi mi promise di farmi diventare suo socio se fosse rimasto ma nemmeno questa offerta generosa riuscì a dissuadermi dalle mie intenzioni ogni volta che qualcuno bussava alla porta temevo che fosse il principe o qualcuno dei suoi giannizzeri per questo cercai di affrettare il momento della mia partenza che ormai era fissata per il giorno dopo e proprio quell'ultima sera il mio padrone entrò nel negozio con una carta in mano Chris mi disse forse tu hai creduto che ti abbia offerto di diventare mio socio negli affari solo per convincerti a rimanere e che poi non avrai mantenuto la parola per dimostrarti il contrario ecco il documento legale che ti nomina mio socio con il diritto a un terzo dei guadagni guarda attentamente e ti accorgerai che è stato redatto secondo le norme davanti al cadì mi aveva appena messo il documento fra le mani e io ero ben deciso a restituirglielo con un secco rifiuto quando fummo interrotti da qualcuno che batteva violentemente contro la porta era un gruppo di giannizzeri mandato dal principe che avevano ricevuto l'incarico di portarci immediatamente da lui sapevo benissimo di cosa si trattava e maledissi la mia follia per aver aspettato tanto a lungo il vino era risultato così gradito al palato del principe che lo aveva bevuto molto più in fretta del previsto e inoltre il corpo dello schiavo occupava almeno un terzo dello spazio disponibile nel barile e perciò il quantitativo di vino non era molto elevato non potevamo opporci e nemmeno fuggire e il mio padrone che ignorava i motivi di quell'improvvisa richiesta del principe non si dimostrò particolarmente allarmato ma seguì i soldati con la massima disponibilità io invece ero quasi morto per la paura quando arrivammo il principe ci assalì insultando violentemente il mio padrone sporco bastardo di un ebreo miscredente gridò come ti è venuta questa folla idea di imbrogliare un fedele come me vendendomi un barile di vino che è pieno appena per due terzi anche se dentro devi averci messo qualcos'altro per riempirlo l'ebreo giurò di non sapere niente e si appellò anche alla mia testimonianza io naturalmente assicurai a mia volta di non saperne nulla bene rispose il principe allora vedremo insieme cosa c'è dentro andremo a prendere gli attrezzi del greco in modo da poter aprire il barile così sarai costretto ad ammettere la tua disonestà due giannizzeri furono inviati a prelevare gli attrezzi e al loro ritorno dovetti levare il coperchio al barile in quel momento fui sicuro che sarei morto di lì a poco e niente mi confortava a parte l'osservazione che il risentimento del principe era diretto più contro il mio padrone che contro di me obbedì all'ordine del principe con le mani tremanti tolsi il coperchio del barile e con orrore di tutti i presenti apparve il cadavere ma invece di essere nero era diventato bianco a causa del lungo periodo in cui era rimasto immerso mi sentii leggermente sollevato per quella circostanza perché forse avrebbero sospettato qualcun altro sia benedetto abramo esclamò il mio padrone cosa è apparso davanti ai miei occhi è un cadavere ti prego aiutami signore non so niente di tutto questo e tu Chris giurai di essere completamente all'oscuro e chiamai tutti i patriarchi a testimoniare della verità delle mie asserzioni ma mentre proclamavamo la nostra innocenza il principe fissava il mio padrone con uno sguardo fisso feroce e indignato più eloquente di qualsiasi parola le altre persone presenti anche se non dicevano nulla sembravano pronte a farlo a pezzi maledetto miscredente urlò alla fine il turco è in questo modo che prepari il vino per i discepoli del profeta che abramo mi protegga esattamente come voi non riesco a capire come questo cadavere sia finito nel barile ma sarò lieto di sostituirlo e di farvene avere immediatamente un altro in cambio d'accordo rispose il principe i miei schiavi andranno a prenderlo diede disposizioni in questo senso ai domestici e poco dopo riapparve la portantina con un altro barile di vino è una perdita grave per un povero ebreo un barile di ottimo vino fece notare il mio padrone mentre il carico veniva fatto rotolare fuori dalla portantina poi prese il cappello intenzionato ad andarsene fermo! ordinò il principe non ho intenzione di rubarti il vino ma allora se siete disposto a pagarmelo rispose il mio padrone siete veramente un uomo molto generoso adesso lo vedrai rispose il principe che aveva dato disposizione agli schiavi di versare il vino in altri contenitori quando il barile fu vuoto mi chiese di scoperchiarlo e quando ebbe eseguito i suoi comandi ordinò ai suoi giannizzeri di gettare il mio padrone nel barile in un attimo fu afferrato legato e buttato nel barile a cui mi ordinarono di rimettere il coperchio ero molto riluttante a eseguire quell'ordine prima di tutto perché non avevo nessuna ragione di lamentarmi del mio padrone e inoltre perché sapevo che veniva punito per un delitto di cui ero io colpevole ma si trattava di una scelta fra la vita e la morte e i giorni dell'abnegazione del sacrificio personale sono ormai solo un lontano ricordo in questo paese a parte questo avevo in tasca il documento che mi nominava socio in affari e il mio padrone non aveva eredi e quindi avevo l'opportunità di diventare l'unico proprietario del negozio inoltre è inutile che tu stia a spiegarmi le ragioni per cui l'hai rinchiuso nel barile osservò il pascià ho eseguito un ordine a vostra altezza e anche se non ebbi il coraggio di oppormi lo feci con profondo rincrescimento ve lo assicuro come se non mi immaginassi il destino che si preparava per me rimisi il coperchio e inchiodai le doghe poi il principe ordinò ai suoi schiavi di riempire di nuovo il barile col vino e in questo modo morì il mio padrone rimetti al suo posto il tappo greco mi ordinò il principe in tono severo obbedì e poi rimasi immobile e tremante davanti a lui adesso dimmi seria conoscenza delle azioni del tuo padrone pensai che dato che il principe aveva tolto la vita al mio padrone non mi avrebbe fatto nulla di male se avessi cercato di assecondarlo risposi che non ne sapevo nulla ma che l'anno prima uno schiavo negro era scomparso in maniera abbastanza sospetta e il mio padrone non si era dato molto da fare per ritrovarlo adesso però ero convinto che quello schiavo avesse fatto la stessa fine dell'ebreo aggiunsi anche che il mio padrone si era lamentato del fatto che sua altezza avesse scelto proprio quel barile di vino per chi avrebbe voluto tenerlo in magazzino maledetto ebreo esclamò il principe sospetto che abbia ucciso almeno una dozzina di schiavi allo stesso modo ho paura di sì signore risposi forse io sarei stato la sua prossima vittima quando gli ho chiesto di andare via ha cercato in tutti i modi di persuadermi a restare e mi ha dato questo documento con cui sarei diventato suo socio con diritto a un terzo dei guadagni ma sono sicuro che questa fortuna non sarebbe durata a lungo molto bene greco rispose il principe puoi considerarti un uomo fortunato a certe condizioni potrai diventare il proprietario di tutta l'impresa la prima è che tu conservi questo barile di vino che contiene quel furfante di ebreo in modo che ogni tanto possa avere il piacere di guardarlo per riassaporare la mia vendetta dovrai conservare anche il barile dell'altro cadavere in modo che la mia furia si mantenga sempre viva l'ultima condizione è che tu mi fornisca tutto il vino che ti chiederò della migliore qualità senza pretendere nulla in cambio accetti queste condizioni o devo considerarti complice dell'inganno del tuo padrone potevo tranquillamente accettare quelle condizioni vostra altezza saprà benissimo che nessuno presta molta attenzione a un ebreo quando qualcuno mi chiedeva notizie sulla sua scomparsa mi stringevo alle spalle e rispondevo al mio interlocutore in via del tutto confidenziale che il capo dei giannizzeri l'aveva messo in prigione e che ero stato incaricato di mandare avanti il negozio fino al suo rilascio secondo i desideri espressi dal principe i due barili che contenevano l'ebreo e lo schiavo etiope erano allineati con gli altri su delle panche un po' più alte al centro del magazzino ogni tanto veniva alla sera e si metteva davanti al barile che conteneva il mio vecchio padrone e lo osservava per ore bevendo molto vino così che era costretto a rimanere in quella casa fino al mattino dopo vostra altezza non deve credere che io rinunciassi ad approfittare di nascosto dal principe della particolare qualità del vino contenuto in quei due barili lo spillavo dalla parte bassa e dopo aver tolto tutto il vino ne mettevo di nuovo in breve tempo non possedevo più nemmeno un gallone di vino che non fosse passato nei barili dell'etiope e del giudeo la qualità della mia produzione migliorava e così aumentarono le vendite ed io divenne un uomo ricco tutto proseguì nel migliore dei modi per tre anni poi il principe che durante tutto quel tempo era stato ospite quasi fisso nella mia casa ubriacandosi almeno tre volte alla settimana ricevette l'ordine di raggiungere l'armata del sultano con le sue truppe mentre gli facevo compagnia durante la notte anch'io avevo cominciato a bere anche se non mi ero mai ubriacato il giorno in cui si mise in marcia si fermò davanti alla mia porta smontò dal suo cavallo arabo ed entrò per bere l'ultimo bicchiere d'addio dopo aver ordinato ai suoi uomini di proseguire confermando che li avrebbe raggiunti più tardi dopo un bicchiere ne beve un altro e il tempo volò via si esela sera e il principe era come sempre in stato di ubriachezza insistette per scendere nel magazzino per vedere ancora una volta il barile che conteneva il corpo dell'ebreo ormai i nostri rapporti erano abbastanza confidenziali e quella sera avendo bevuto un po' troppo divenne imprudente vi prego principe non deridete di nuovo il mio padrone perché è solo a lui che debbo la mia fortuna adesso che state per partire vi rivelerò un segreto nel mio magazzino non esiste una sola goccia di vino che non abbia preso il gusto nel suo barile o in quello dello schiavo negro per questo motivo il mio vino è migliore degli altri come! esclamò il principe che era quasi incapace di parlare molto bene maledetto greco morirai come il tuo padrone per il santo profeta che sacrilegio per un musulmano andare in paradiso impregnato dell'odore di uno sporco giudeo disgraziato morirai morirai fece un balzo verso di me ma inciampò e cadde al suolo così ubriaco che non fu più capace di rialzarsi sapevo che dopo aver smaltito gli effetti del vino si sarebbe ricordato di quello che era successo e la sua vendetta sarebbe ricaduta su di me il terrore della morte e il vino che avevo bevuto mi suggerirono ai passi da compiere lo infilai in un barile vuoto misi il coperchio lo cerchiai lo misi vicino agli altri e lo riempii di vino così vendicai il mio povero padrone e mi liberai di ogni ulteriore fastidio da parte del principe cosa gridò il pascià molto arrabbiato hai annegato un vero credente un principe dei giannizzeri maledetto cane greco figlio di saitan e osi anche vantartene sarai giustiziato abbiate pietà di me vostra sublime altezza abbiate pietà di me implorò il greco non avete giurato sulla spada del profeta che mi avreste perdonato inoltre non era un vero credente altrimenti non avrebbe disobbedito alla legge un autentico musulmano non berrebbe nemmeno una goccia di vino ho promesso che ti avrai perdonato l'uccisione dello schiavo arabo ma tu hai ammazzato anche un principe dei giannizzeri pensi che sia la stessa cosa domandò il pascià a mustafa vostra altezza ha ogni diritto di indignarsi questo greco merita di essere imparato tuttavia ci sono almeno due considerazioni che il vostro schiavo si permette di sottoporre alla vostra sublime saggezza la prima è che vostra altezza ha fatto una promessa generica e ha giurato sulla spada del profeta benedetto sia allà di questo non mi preoccupo se avessi fatto il mio giuramento su un autentico credente allora sarebbe stato più vincolante per me il secondo punto è che lo schiavo non ha terminato la sua storia che potrebbe contenere ancora molti spunti interessanti ah per allà è vero lasciamo che finisca il suo racconto ma lo schiavo rimase muto con gli occhi rivolti in basso e fu solo dopo che il pascià più calmo e desideroso di conoscere il resto della storia giurò di nuovo sulla spada santa del profeta che non l'avrebbe ucciso che il greco cedette alla richiesta e continuò il suo racconto dopo aver sistemato il barile scesi nel cortile dove il principe aveva lasciato il cavallo colpì più volte l'animale con la spada del principe e poi lo lasciai libero in modo che potesse galoppare fino a casa il rumore degli zoccoli del cavallo nel mezzo della notte risvegliò tutti i membri della famiglia e quando scoprirono che la bestia era ferita e senza cavaliere immaginarono che il principe fosse stato attaccato e ucciso dai banditi mentre stava raggiungendo la truppa mi mandarono dei domestici a chiedere a che ora il principe avesse lasciato la mia casa risposi che se n'era andato un'ora dopo il tramonto che era abbastanza ubriaco e che aveva dimenticato la sciabola che restituì immediatamente non sospettarono minimamente della mia versione e credettono che il principe fosse morto per strada finalmente mi ero sbarazzato di quella pericolosa conoscenza era stato per me un ottimo cliente ma riuscì a recuperare la somma perduta anche con gli interessi grazie al gusto che riuscì a conferire al mio vino con il suo cadavere migliorandone di molto la qualità sistemai il suo barile di fianco agli altri due e i miei affari prosperarono poiché i miei vini avevano acquistato una grande rinomanza ma un giorno il cadì che aveva sentito lodare i miei prodotti venne a casa mia per una visita privata mi inchinai fino al suolo per tanto onore perché da molto tempo speravo di poterlo annoverare tra i miei clienti gli feci assaggiare il vino che ritenevo fosse il migliore questo onorabile signore spiegai mentre gli porgevo un bicchiere è della qualità principe al nostro ultimo principe piaceva moltissimo e ne ordinava un barile alla volta per la sua casa trasportandolo con una portantina chiusa un piano ben congegnato rispose il cadì più saggio che spedire un servo con una brocca che può sempre dare nell'occhio farò anch'io lo stesso ma prima voglio assaggiare tutto il vino che ha in magazzino gustò quello dei diversi barili ma nessuno gli piacque come il primo che gli avevo offerto alla fine si accorse dei tre barili leggermente sollevati da terra rispetto agli altri e quelli cosa sono? domandò incuriosito sono barili vuoti signore risposi ma il cadì aveva in mano un bastone e lo picchiò contro uno dei barili greco mi hai detto che erano vuoti ma il suono che proviene percuotendoli mi rivela il contrario sospetto che là dentro conservi del vino di qualità migliore di quello che mi hai fatto assaggiare versamene un po' immediatamente fui costretto ad accontentarlo assaggiò quel vino esclamò che era eccellente e che voleva acquistare tutti e tra i barili gli spiegai che adoperavo quel vino per dare maggior corposità al resto della mia produzione e gli dissi che il prezzo era molto elevato sperando così che avrebbe rinunciato al suo proposito mi domandò quale fosse il costo e io gli risposi che era quattro volte il prezzo del resto del vino d'accordo affermò il cadì è un po' caro ma non si può comprare del vino eccellente se non si è disposti a pagarlo affare fatto ero molto allarmato e spiegai che non potevo vendere quei barili perché non sarei più riuscito a conservare inalterata la mia reputazione se avessi rinunciato al procedimento che mi permetteva di migliorare la qualità dei miei prodotti tutte le mie proteste riuscirono vane il cadì mi disse che mi aveva chiesto il prezzo e che aveva accettato la mia richiesta ordinò agli schiavi di andare a prendere una portantina restò nel magazzino fino a quando non fu terminato il carico così in una volta sola persi il mio etiope, il mio giudeo e il mio principe sapevo che il mio segreto sarebbe stato presto scoperto e perciò il giorno dopo mi preparai a partire ricevetti il pagamento dal cadì a cui rivelai la mia intenzione di andarmene perché dopo aver venduto il mio vino migliore non avevo più molte speranze di poter continuare a fare il commerciante con successo implorai di nuovo di restituirmi tre barili offrendogli tre damigiane di vino in regalo se avesse accettato la mia richiesta ma era irremovibile presi a nolo una nave sulla quale caricai il resto del mio vino portai con me tutto il denaro che possedevo e feci rotta verso corfu prima che il cadì scoprisse il mio inganno incontrammo una violenta tempesta di vento che dopo una quindicina di giorni durante i quali tentammo inutilmente di contrastarlo ci obbligò a far rotta nuovamente verso smirne quando il vento si placò ordinai al capitano di dirigere la nave verso la rada più esterna da dove saremmo ripartiti il più presto possibile avevamo gettato l'ancora da appena cinque minuti quando vidi un'imbarcazione che partiva dalla spiaggia con il cadì e i funzionali della giustizia a bordo sicuro di essere stato scoperto ero molto indeciso sul da farsi quando mi venne l'idea di nascondere il mio corpo in un barile come avevo fatto con successo con gli altri cadaveri chiamai il capitano sotto coperta in cabina e gli spiegai che sospettavo che il cadì volesse uccidermi offrendogli in cambio una parte del carico se mi avesse aiutato il capitano che sfortunatamente per me era un greco acconsentì scendemmo nella stiva vuotammo il barile e dopo aver tolto il coperchio mi calai dentro prima che venissero inchiuso il cadì salì a bordo subito dopo a cercarmi e il capitano gli spiegò che ero caduto fuori bordo durante la tempesta e che di conseguenza aveva fatto nuovamente rotta verso smirne senza consegnare la merce a corfu quel maledetto è riuscito a sfuggire alla mia vendetta esclamò il cadì quell'assassino che migliorava la corposità del suo vino con i cadaveri dei suoi amici ma tu forse stai ingannandomi farò controllare la nave i funzionali che accompagnavano il cadì perquisirono attentamente tutta l'imbarcazione non riuscirono a trovarmi e così credettero all'avversione del capitano dopo aver imprecato a lungo contro la mia anima dannata il cadì e i suoi compagni se ne andarono adesso respiravo più tranquillo anche se ero intossicato dai vapori del vino che impregnavano il legno del barile ed ero ansioso di essere rimesso in libertà ma quel capitano traditore era di tutt'altro avviso e non scese nella stiva a liberarmi durante la notte tagliò la fune dell'ancora e prese il largo e io riuscì a sentire la conversazione di due uomini dell'equipaggio che mi rivelarono le intenzioni del capitano intendeva buttarmi fuori bordo durante il viaggio per impossessarsi della merce gridai per richiamare la loro attenzione le implorai di avere pietà di me ma fu tutto inutile uno di loro mi rispose che se avevo ucciso delle persone nascondendo i loro cadaveri dentro i barili meritavo di fare la stessa fine con me stesso non potevo far altro che ammettere che quella punizione era giusta rassegnandomi al mio destino speravo di essere gettato in mare il più presto possibile in modo da essere liberato dal tormento dell'attesa una morte rapida in quel momento mi sembrava migliore della realtà ma il destino aveva disposto diversamente incontrammo una tempesta che costrinse il capitano e l'equipaggio a dedicarsi alla nave col massimo impegno dimenticandosi della mia presenza a mia triste sorte subiva un rinvio inaspettato il terzo giorno sentii i marinai che mormoravano che fin quando un delinquente come me fosse rimasto a bordo la nave non sarebbe riuscita a mettersi in salvo venne aperto il boccaporto il mio barile venne essato in coperta e gettato nel mare tempestoso il tappo del barile era stato levato ma avendoci infilato il mio fazzoletto quando il buco scendeva sotto il livello dell'acqua impedivo al barile di riempirsi quando invece il buco saliva sopra il livello del mare levavo per un momento quella chiusura postizia in modo da far entrare dell'aria fresca ero terribilmente disturbato dal rollio continuo del mare tempestoso e continuamente distrutto dalla fatica e dal dolore avevo quasi deciso di lasciare entrare l'acqua e di togliermi la vita quando fui rigirato violentemente con tale rapidità che non riuscì a mettere in atto il mio espediente per non far entrare l'acqua dopo tre successivi ribaltamenti dello stesso genere mi resi conto che il barile era arrivato in prossimità della riva era stato gettato sulla spiaggia un momento dopo sentii delle voci e delle persone che si avvicinavano al barile facendolo rotolare preferii non parlare per non spaventarli mi avrebbero abbandonato sulla spiaggia e sarei stato nuovamente travolto dalle onde quando si fermarono li chiamai con voce debole dall'apertura implorandoli di aver pietà di me e di farmi uscire dapprima sembrarono allarmati ma quando ripetei la mia richiesta spiegando che ero il proprietario di una nave il cui equipaggio si era ammutinato col capitano gettandomi fuori bordo andarono a prendere degli attrezzi e mi liberarono la prima cosa che vidi quando venni estratto dal barile fu il relitto della nave su cui avevo viaggiato ogni ondata che lo scagliava verso riva lo riduceva sempre più a pezzi lo scafo era già spezzato in due nel mezzo e sulla bianca schiuma galleggiavano i barili di vino che man mano che arrivavano sulla battigia venivano fatti rotolare in salvo dalle stesse persone che mi avevano aiutato ero così debole che svenni nel posto in cui mi trovavo quando ripresi conoscenza mi ritrovai in una caverna sdraiato su un mucchio di mantelli e scorsi un gruppo di 40 o 50 uomini seduti intorno a un fuoco che stavano svuotando rapidamente uno dei miei barili di vino non appena si accorsero che stavo riprendendo i sensi mi fecero bere del vino che mi ridia de forza poi uno di loro che doveva essere il capo mi invitò ad avvicinarmi gli uomini che si sono salvati dal nubifragio mi spiegò ci hanno narrato strane storie di orribili delitti che tu avresti commesso in passato sediti e raccontaci la verità se le tue parole mi convinceranno avrai giustizia sono il cadì di questo posto se vuoi sapere dove ti trovi ti dico che siamo sull'isola d'ischia se mi chiedi con chi ti trovi ti rispondo che siamo un gruppo di amici che le persone meschine chiamano pirati adesso raccontami la verità pensai che la mia storia sarebbe stata accolta con maggior comprensione dai pirati che dalla gente comune e così narrai tutta la mia odissea con le stesse parole che sto usando adesso con vostra altezza quando finì il capo della banda fece alcune osservazioni bene poiché ammetti di aver ucciso uno schiavo di aver assistito alla morte di un ebreo e di aver annegato un principe meriti sicuramente la morte ma tenuto conto dell'ottima qualità del vino e del segreto che ci hai rivelato cambierò la mia sentenza il capitano e il resto della flotta che si sono salvati sono colpevoli di tradimento e pirateria di mare un'accusa infamante che merita la morte immediata ma è stato grazie al loro intervento che siamo venuti in possesso di questo vino per cui sarò clemente vi condanno tutti ai lavori forzati a vita sarete venduti come schiavi al cairo e noi ci divideremo il denaro e berremo il vostro ottimo vino i pirati applaudirono per dimostrare il loro apprezzamento per la giustizia della decisione del loro capo da cui avrebbero tratto molti benefici e ogni appello da parte nostra si rivelò inutile quando la tempesta si calmò fummo messi a bordo di una di quelle loro piccole imbarcazioni e quando arrivanno in questo porto si misero in vendita come schiavi questa, Pasha, è la storia che mi avete chiesto di raccontare e io spero che voi mi consideriate più sfortunato che colpevole perché ogni volta che sono stato costretto a uccidere un uomo è stato solo perché mi sono trovato davanti a una scelta ineluttabile fra la sua vita e la mia grazie a tutti